Le vite degli altri. Come i comunisti nella Germania dell'Est spiavano i cittadini. La bontà umana può essere un antidoto all'obbedienza al tiranno. Di Roberto Marchesini. Le vite degli altri, della fascinante Florian Enkel von Donnersmark, racconta la verosimile storia del capitano della Stasi, Gerd Wiesler, nome in codice HGWXX7, interpretato da uno straordinario attore teatrale, Ulrich Mühe. Siamo nella Berlino-Est del 1984. Il suo superiore lo incarica di spiare un intellettuale, l'autore teatrale Georg Dreiman, sospettato di tramare contro il regime sovietico. L'operazione ha inizio, ma ben presto. Il capitano Wiesler si rende conto che l'obiettivo non è cercare delle prove a carico di Dreiman, bensì rovinargli la vita e la carriera. La sua fidanzata, l'attrice Krista Maria Sealand, è concupita dal ministro della cultura, Bruno Enf, che vuole togliere di mezzo l'intellettuale per poterla avere a sua completa disposizione. Wiesler, tuttavia, osservando la vita di Dreiman e della Sealand, scopre un universo fatto di amicizia, amore, relazioni autentiche, sensibilità artistica, fedeltà, in sostanza verità, bellezza, onestà. Tutte cose che nel partito e nella Stasi non esistono. Così comincia a proteggere i due fidanzati, affascinato dalla loro vita, della cui bellezza si è trovato inaspettatamente a godere, occultando, nei suoi rapporti, qualunque cosa possa destare un sospetto da parte delle autorità. Ad un certo punto un amico e collega di Dreiman, Albert Gerska, si suicida. A causa delle sue idee, critiche nei confronti del partito, gli era stato impedito di lavorare. Dreiman decide dunque di scrivere un articolo per denunciare la piaga dei suicidi nella DDR degli anni Ottanta e di pubblicarlo su Der Spiegel, giornale occidentale. Wiesler tenta nuovamente di proteggere Dreiman, ma la situazione precipita. Ci sono poi alcuni aspetti della straordinaria interpretazione di Mue che vale la pena ricordare. Non solo questa fu l'ultima, poiché l'attore morì di cancro pochi mesi dopo l'uscita del film. L'intera vicenda lo riguarda personalmente. Anche egli, come Dreiman, scoprì, dopo la riunificazione, di essere stato spiato dalla Stasi nelle persone di quattro suoi colleghi del teatro di Berlino Est e da sua moglie Jenny. La Stasi era il Ministero per la Sicurezza di Stato della Germania Est, DDR o Repubblica Democratica Tedesca, che era responsabile della sicurezza e dello spionaggio. È famosa per aver arruolato numerosi tedeschi dell'Est per il controllo delle attività dei propri concittadini, al fine di impedire il sorgere di moti contro il governo autoritario della Germania Est. Nel film si vedono le disumane tecniche di interrogatorio utilizzate dalla sicurezza di Stato, la pervasività dell'apparato e la sua potenza, persino l'utilizzo sistematico dei bambini per carpire informazioni circa i genitori. In effetti l'esperienza di controllo messa in atto dalla Stasi non ha mai avuto uguali al mondo. Per circa 16 milioni di abitanti la Stasi aveva 91.000 dipendenti e quasi 200.000 collaboratori informali, cioè delatori. Praticamente una spia ogni 50-60 persone. A questo punto la domanda sorge spontanea. Perché i tedeschi collaboravano in massa? Per i tedeschi il rapporto con l'autorità civile è di obbedienza. Già Lutero aveva stabilito che l'autorità dei principi sul popolo era assoluta, al punto che in seguito alla rivolta dei contadini scrisse. Perciò, cari signori principi, liberate, salvate, aiutate e abbiate misericordia della povera gente. Ma ammazzate, scannate, strangolate quando potete i contadini ribelli. E se ciò facendo sopraggiungerà la morte, buon per voi. Non potreste incontrare mai morte più beata, perché morirete in obbedienza alla parola e al comando di Dio ed in servizio alla carità per salvare il vostro prossimo dall'inferno e dai lacci del demonio. Per Lutero, infatti, è giusto ciò che l'autorità civile comanda. Ad essa si deve obbedienza cieca e assoluta. Anche Kant, qualche decennio dopo, pone il fondamento della morale nella legge e nell'autorità. È il dovere per il dovere, Kantiano, che nel 1961 Eichmann utilizzò per giustificare la sua partecipazione alla logistica dei campi di concentramento nazisti. Scrive Anna Arendt nel suo La banalità del male. La prima volta che Eichmann mostrò di rendersi vagamente conto che il suo caso era un po' diverso da quello del soldato che esegue ordini criminosi per natura e per intenti, fu durante l'istruttoria, quando improvvisamente dichiarò con gran foga di aver sempre vissuto secondo i principi dell'etica kantiana e in particolare conformemente a una definizione kantiana del dovere. Anche Fichte contribuì a fissare questi principi nell'anima germanica, quando tra il 1807 e il 1808 pronunciò i discorsi alla nazione tedesca. Se qualcuno vuole fare un confronto con l'Italia attuale, si diverta pure. Per approfondimenti, per vedere il trailer e alcuni clip tratte da Le vite degli altri e per